Questo programma è offerto da Tecnocampus Martedì 14 maggio, buongiorno da Teleprima Benvenuti anche in questa giornata alla nostra quotidiana rassegna stampa come ogni mattina offerta da Tecnocampus Anche oggi abbiamo tanti, tantissimi fatti sulle prime pagine dei quotidiani nazionali anche perché continua ad essere sempre più alta la tensione tra i due membri del governo i vice premier e comunque non solo all'interno dello stesso governo ma anche nel rapporto con ovviamente le opposizioni quindi continuano ancora le discussioni, fa ancora discutere ciò che ha fatto ieri l'elemosiniere del Papa, l'elemosiniere di Papa Francesco che ricordiamo ha riattaccato l'elettricità ai Rom che abitavano una casa e comunque non pagavano ovviamente le bollette dell'energia elettrica che era stata appunto staccata loro adesso nascono tutte le questioni inerenti ovviamente la disponibilità di abitazioni per questi Rom ma anche la giusta o non giusta azione compiuta da questo elimosiniere nei confronti di un'attività che normalmente non sarebbe licita ancora vediamo appunto tutti i fatti in primo piano ma lo facciamo direttamente con le testate nazionali a questo punto sfogliamo il Corriere della Sera e vediamo appunto quali sono le notizie in primo piano come ho già detto all'inizio di questa rassegna stampa il problema grande sono proprio le tensioni infatti scritte e proteste Di Maio a Salvini troppa tensione viminale via solo gli striscioni pericolosi la Lega chiede l'autonomia prima del voto e infatti questo dice Di Maio sono troppe le tensioni che stiamo vivendo sembra sempre la situazione più complicata di quello che effettivamente è dobbiamo prestare più attenzione e soprattutto darci una calmata di contro Di Maio dice guarda la situazione non è cambiata dall'inizio siamo sempre alla medesima azione nel medesimo modo l'unica differenza è che adesso compagnano le scritte di morte nei miei confronti infatti gli striscioni rimossi ma solo la spia di una tensione sociale dicono i pentastellati accusando infatti Salvini e poi vediamo perché i 5 Stelle guardano Alpi di tratattica e necessità è solo tattica questa svoltona a sinistra dei 5 Stelle per schiacciare Salvini sull'estrema destra e trovare un po' di spazio vitale dall'altra parte si chiede appunto questo articolo oppure una strategia, un'idea che potrebbe tornare utile dopo eventuali elezioni anticipate un piano B, la costruzione di un'alleanza alternativa con il PD considerati i tempi che viviamo si tenderebbe a rispondere è tattica i leader di oggi non riescono a guardare oltre il prossimo sondaggio cioè le europee, figuriamoci se sanno fare strategie insomma probabilmente è tutto ancora in divenire ma probabilmente molti si chiedono che cosa accadrà dopo il 26 maggio quando ci saranno le elezioni europee questo governo terrà dopo il voto di domenica 26 maggio oppure ci sarà qualche cambiamento come loro ovviamente dicono spesso ancora vediamo nell'editoriale opposizione scelte la sinistra che torna alle radici nell'editoriale di Angelo Panebianco prima o poi, forse più poi che prima il governo giallo-verde cadrà minato dai suoi conflitti interni ma non è sicuro che coloro che guidano le principali opposizioni parlamentari quindi PD e Forza Italia e che come il copione esige si augurano pubblicamente ogni giorno che quella caduta avvenga non provino timore per ciò che accadrebbe dopo dal momento che la fine del governo giallo-verde sarebbe per loro il momento della verità l'ora in cui dovrebbero essere fatte scelte difficili e forse allaceranti se sei all'opposizione puoi fare a muina puoi bleffare puoi goderti la tua piccola rendita di posizione ma se il quadro politico si mette in moto improvvisamente viene meno ogni possibilità di bleff insomma veramente si gioca proprio una partita di quelle senza privazioni e senza sottrazioni di colpi anche perché ovviamente nel momento in cui ci si trova l'opposizione tutto diventa facile diventa facile attaccare e dire il governo non è in grado di fare questo oppure quello ma nello stesso tempo nel momento in cui si è alla resa dei conti e quindi ci si trova nella situazione opposta la situazione potrebbe cambiare e là bisogna far vedere effettivamente di che cosa si è capaci oppure no e finora sembra proprio che questo ancora non sia stato fatto vedere da nessuno e vediamo ancora altro argomento che questa mattina troneggia appunto da tutte le testate nazionali il maltempo il maltempo che non ci aspettiamo nel mese di maggio soprattutto non ci aspettiamo che faccia danni e infatti si parla di sfollati a scuole chiuse in Emilia Romagna e vediamo quant'acqua si trova a circolare tra i fiumi e ovviamente quanti sono esondati fiumi in piene alluvioni la primavera che non c'è il maltempo non da tregua soprattutto al nord in Emilia Romagna in particolare dove a causa delle forti piogge sono straripati secchia il panano nel modenese e il savio nel cesenate tratte in salvo alcune persone interrotta la linea ferroviaria che da Bologna porta a Rimini la protezione civile i vigili del fuoco hanno raggiunto il soccorso in intere famiglie intrappolate dall'esondazione scuole chiuse in Emilia e ancora vediamo le altre notizie in primo piano eccoci qua la vicenda di cui parlavamo già ieri Roma il cardinale ha riportato alla luce i problemi però restano nel palazzo senza speranza solo il papa pensa a noi e infatti questo dice proprio questo articolo nel palazzo occupato che ha riavuto la luce entra la Digos è passato di qui il prete tutti muti tutti tranne una bimba non è un prete è un cardinale e ancora vediamo Fontana prima del bando si parla ancora di problemi all'interno del governo il mio ex socio l'ho voluto io Fontana da IPM il giorno prima che la ragione lombarda diramasse il bando lui incaricò il suo staff di dire all'ex socio di candidarsi e ancora vediamo gli altri fatti in primo piano ci spostiamo sulle altre testate nazionali e raccontiamo quelli che sono i fatti di questa giornata ci spostiamo adesso sulla verità e vediamo la carità pelosa del Vaticano così la definisce appunto questo quotidiano nuova teologia della liberazione a quanto pare dalla polletta con il colpo di mano dei contatori della CEA il musiniere del Papa non solo legittima una serie di azioni illegali ma si arroga il diritto di fare beneficenza con il portafogli altrui e senza la decenza della discrezione dagli affitti alla discoteca tutti gli affari in nero nel palazzo occupato è tutto raccontato da Maurizio Belpietro e nella parte centrale della pagina martirio premeditato del milionario Fazio per una modifica di routine e nella parte centrale della pagina anche questo è un argomento oggi in primo piano presi cinque rome infatti che hanno ucciso una vecchietta la croente rapina nella casa dell'anziana a Roma i malviventi provengono da un campo già noto per crimini e ancora Nobel da brividi utile la strage in moschea dimostra che non solo l'Islam è violento pensate un po' le affermazioni che vengono fatte ancora processo per Expo chiesta la condanna a un anno per il sindaco di Milano che vediamo nella foto e il ripasso di storia gli antifascisti mistificano il fascismo non è mai stato di destra e nella parte bassa della pagina viva gli alpini ma non confiniamoli nel passato combattono ancora nasconderlo è un errore grave e vediamo nella parte bassa della pagina un argomento di quelli che lascia senza parole infatti titola proprio così ho fatto 5.000 esorcismi nello stomaco dei posseduti la prova che il diavolo c'è e a raccontarlo è Don Gianni Simi questo esorcista che racconta appunto di quello che ha trovato e soprattutto di quello che ha fatto nella sua attività e ancora vediamo il fatto quotidiano il fatto nella giornata di oggi presenta notizie di ogni tipo e vediamo l'eroe da 54 giorni fa lo sciopero della fame a Roma per la causa curda e il suo leader Ocalan perciò è perseguitato dal regime turco di Erdogan e nell'articolo di apertura Cairo i suoi media in campo la nuova legge può bloccarlo niente politica per Tycoon ed editori infatti in commissione alla Camera il provvedimento del Movimento 5 Stelle salta la norma che impedisce a chi supera i 10 milioni di patrimonio di andare al governo e alle autority e intanto dalle piazze Di Maio continua a dire basta tensioni da Roma brembate blindati e pompieri al servizio tutti di Salvini e per i ballottaggi ultimo test pre-europei comunali Sicilia la Lega Secco vincono i 5 Stelle e l'inciucio PD Miciche e nella parte centrale della pagina da nord a sud il processo al sindaco di Milano e l'inchiesta sul braccio destro di De Luca PD Nuovi Guai chiesti 13 mesi per sala indagato mister Friture e ancora il caso Fazio e non solo tutti gli uomini Rai saltati sul carroccio luoghi comuni addio alle vele di Scampia è partita ieri infatti la demolizione di questa grande struttura che sembra proprio raccontare una vicenda che vorrebbe avere una fine di quelle piacevoli e nella parte bassa della pagina vediamo le altre notizie in primo piano il nuovo disco Torna Morrissey e ricomincia da Bob Dylan e Company e ancora vediamo gli altri fatti in primo piano proprio sulle testate nazionali vediamo Libero questa mattina come ci presenta i fatti e soprattutto su cosa pone l'attenzione e vediamo che l'attenzione è proprio posta sulle limusiniere e in particolare i limusinieri con i soldi degli altri la chiesa in Italia possiede 115 mila case e non le dà in Roma questa è la denuncia questa è la denuncia che viene fatta da Libero con il suo sterminato patrimonio immobiliare il Vaticano potrebbe offrire asilo a tutti senza tetto e i profughi del paese invece manda emissari in aiuto di chi occupa proprietà altrui illegalmente e ancora vediamo le serate cancellate dalla TV di Stato Fazio da milionario a Martire Rai le polemiche insensate non è un obbligo dare il benvenuto a Matteo Salvini e nella parte centrale della pagina prima ci disperiamo per la siccità poi però abbiamo l'acqua alla gola ma il tempo comunque fiume esondati treni fermi e scuole chiuse ed infine negli uffici pubblici a quanto pare la notizia di oggi è che gli italiani non vogliono la tecnologia è sempre così perché ovviamente la tecnologia secondo molti rallenta tutte le attività ma soprattutto quando non si è in grado di utilizzare queste tecnologie troppo spesso ancora oggi la tecnologia lasciata nelle mani sbagliate ovviamente non riesce a fare il suo dovere e ancora vediamo nella parte bassa della pagina spiegato in questo articolo di piede il perché si diventa mafioso i genesi della malavita organizzata ancora vediamo le altre notizie in primo piano questa volta ci spostiamo sul tempo vincono sempre i prepotenti tutti applaudono la bravata del cardinale e gli occupanti illegali chiedono ancora di più umiliati grazie a questa vicenda i veri poveracci che tirano la cinghia e rispettano le leggi questo raccontato appunto dal tempo in questa giornata e sembra essere proprio così una storia di quelle che hanno lasciato il segno e che lo lasceranno nel tempo perché troppo spesso le prepotenze altrui non determinano la libertà quanto piuttosto un'azione e soprattutto un mondo in cui le regole sembrano fatte per gli altri e vediamo ancora in primo piano anziana uccisa per rapina presi 5 rom la novantenne romana selvaggiamente picchiata la banda viene dai campi di via salviati e via gordiani e ancora il giallo di ponte sisto l'assassino si è fermato a vedere himen morire e infine nella parte bassa della pagina il re scoppia la rissa proprio sul caso Fazio zuffa tra Salini e De Santis dopo il taglio alle tre puntate del lunedì ancora continuiamo a vedere i titoli nelle prime pagine dal messaggero cardinale sotto inchiesta per il blitz in procura l'esposto sulla violazione dei sigilli nel palazzo occupato nel centro della capitale nodo del conflitto PM Vaticano sull'immunità gli abusivi avevano rifiutato pensate un po' alle case comunali e intanto i giallo-verdi divisi il cambiamento che non c'è dopo l'anno dei due governi e nella parte centrale della pagina Mind Gap l'evento per lanciare la nuova sezione web le donne infatti ripartono dall'autostima da Roma la scossa del messaggero ed infine striscioni anti Salvini tensione nel governo Di Maio rischio piazza rimossa la scritta contro il ministro a Bergamo autonomia lo stop del Movimento 5 Stelle ci vorranno ancora mesi e vediamo ancora gli altri fatti in primo piano ci spostiamo su il mattino e vediamo proprio nella parte alta della pagina hotel a 5 stelle ristoranti VIP gli arabi sbarcano a Capri mentre c'è stato un lutto a Hollywood addio a Doris Day la fidanzata ad America che stregò anche Hitchcock e un nuovo libro in primo piano Manzini indaga sulle case editrici trionfano solo affari e super ego ormai le case editrici sono sempre più in primo piano dopo il salone di Torino che tante polemiche ha suscitato adesso diventano proprio un caso e ne fanno anche un caso editoriale e ancora vediamo le altre notizie in primo piano partiamo dalle notizie nazionali via le scritte contro Savini Di Maio basta estremismi rimosso uno striscione a Bergamo il vice premier Movimento 5 Stelle avvisa la Lega nelle piazze c'è troppa tensione e il commento è che il cambiamento che non c'è dopo l'anno dei due governi mentre un'intervista a Marion Le Pen Italia-Francia popoli alleati per la nuova Unione Europea sembra che questa sia la stretta finale sembra che questa sia la decisione e la via che vuole seguire proprio la Le Pen ma la situazione è che spesse volte la Francia e l'Italia si trovano a vivere due strade parallele ma senza mai incrociarsi e quando si incrociano diventa davvero complicato e vediamo nella parte centrale della pagina l'articolo di apertura è su Noemi ecco le immagini che incastrano il killer il jeep convalida gli arresti dei fratelli del re il movente era la droga i due firmati per giorni a Napoli decisivi moto scarpe casco e anche t-shirt e vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto primo maggio al mando del re sullo scooter guidato dal fratello Antonio tre maggio la fuga erano le 16.59 del re in felpa nera sulla moto Benelli rubata e il tre maggio il cambio dei 17.04 del re ancora in sella alla moto ma con la felpa chiara questa volta intanto 5 maggio la postura del re in questura decisiva la comparazione dell'andatura ed ancora vediamo sempre da questa prima pagina cardinale denunciato il papa lo promuove stabile occupato esposto della società energetica le tensioni nella curia per l'appoggio di francesco e il vaticano torna a fare politica questo viene appunto raccontato un atto che è un segno culturale questo del blitz del cardinale nel pozzo per riattaccare i fili del contatore degli occupanti abusivi e ancora dipendenti pubblici stop alle migrazioni il ministro della pubblica amministrazione buongiorno concorsi territoriali si parte dalla campagna e chi verrà assunto in una regione attenzione non potrà più trasferirsi e ancora vediamo nella parte bassa della pagina Gaetano dalla gioia al dramma debutta in A e pensate un po' la nonna muore l'infarto durante i festeggiamenti una gioia spezzata quella di Gianluca Gaetano proprio mentre esordiva in A giocando gli ultimi cinque minuti a Ferrara nella sua cimitile la famiglia festeggiava ma la festa si trasforma in diverbio con i vicini nella concitazione la nonna avverte un malore e muore e ancora vediamo le altre notizie caso la Super Champions la cancella i sogni degli amanti del calcio e ancora vediamo le prime pagine dei quotidiani nazionali andiamo a vedere il manifesto nella giornata di oggi e vediamo appunto che nella parte alta si parla della sapienza che accoglie Mimmo Lucano dopo le minacce di Forza Nuova siamo l'onda rossa che contrasta quella nera dice e Mediterraneo Salvini fermeremo anche la Sea Watch e nella parte centrale della pagina affollata assemblea nello stabile occupato di Roma riacceso dal cardinale di strada Krajewski e le musiniere del Papa presenti la comunità di Sant'Egidio e la presidente del primo municipio ci autodenunciamo tutti l'associazione degli occupanti dell'edificio ex-impdap replica gli attacchi del ministro dell'interno e vediamo proprio come viene titolato quest'articolo il punto cardinale ovviamente e ancora vediamo gli altri fatti in primo piano scusate ci spostiamo sulla parte espostiva Corriere dello Sport e vediamo direttamente le notizie ed eccoci qua l'Inter aspetta la firma Conte alla rovescia intesa raggiunta contratto di 3 o 4 anni stipendio vicino ai 9 milioni solo una rottura Agnelli Allegri potrebbe fargli cambiare idea insomma quello che viene definito il calcio che vogliamo al centro del giornale 4 pagine speciali e Spalletti torna al terzo posto Chievo battuto con Politano e Perisic Champions a 3 punti e ancora vediamo Fognini già in canta agli internazionali travolge Zonga in due set passa anche Cecchinato Sonego eliminato e la furia Viviani vince anzi no Giro d'Italia è l'arriva primo in volata ma la giuria lo retrocede Gaviria ammette esagerati e ancora vediamo sempre le pagine dedicate allo sport con tutto sport Cairo Siluro Ad Agnelli Corsa all'Europa il presidente del Toro è scatenato mentre Sacchi esalta Belotti è un eroe merita tutto e nell'apertura di pagina eccoci qua vediamo Allegri vuota il sacco è infatti grande stagione ma qualcuno quest'anno ha reso meno del previsto una risposta in diretta a Nedved che ha definito la rosa della Juve difficilmente migliorabile sul mercato e nella parte bassa stupenda under 17 l'1-0 a Portogallo che vale doppio euro semifinale porta ora al mondiale e la russa a processo Ferrari in crisi e Vettel sbotta gestione dei piloti strategie un flop c'è Cofognini Show Federer arriva e sceglie Sinner tutto sul tennis e gli internazionali di Roma e per questa prima parte della rassegna stampa è tutto vi lascio ora in qualche momento di pubblicità ritorniamo subito dopo quindi non andate via e la rassegna stampa e la rassegna stampa e la rassegna stampa All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente alla 30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale ex San Goben Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Bentornati in studio, eccoci di nuovo pronti per vedere quelli che sono i fatti in primo piano, però questa volta lo facciamo dalle testate online ed andiamo a vedere tutti i fatti che riguardano la regione di Campania e in particolare Napoli ma anche Caserta, soprattutto un'attenzione su tutta quella che è la sua provincia. E cominciamo subito dall'esaminare i fatti che riguardano Napoli perché c'è una polemica in atto ormai dura da circa un anno e quella sul Giro d'Italia senza il Sud, Paolo Siani, paese tagliato in due come nella realtà. La polemica del deputato PD, fratello del giornalista Giancarlo, le regioni escluse dalla Corsa sono proprio quelle dove è concentrata la presenza delle mafie senza dimenticare le carenze della sanità pubblica. Ma che Giro d'Italia è questo? La polemica è proprio quella di Paolo Siani. Il deputato napoletano del PD amplificato in maccontento ai tanti tifosi di ciclismo che proprio non hanno digerito il percorso della centoduesima edizione della Corsa Rosa partita sabato scorso da Bologna. Il Sud di fatto non c'è, solo un assaggio a San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia come arrivo della sesta tappa in programma giovedì, poi si risale in Abruzzo con il traguardo fissato all'Aquila. Insomma un Giro d'Italia senza che però ci sia l'Italia. Questa è la polemica in atto già da tempo ma adesso è diventata molto molto più viva ed effettiva visto che un Giro d'Italia di questo genere non si era mai visto. E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano. Si parla di cronaca, camorra, maxi blitz, 11 arresti tra Napoli e Salerno. I carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziate e i finanzieri nel nucleo di polizia economico-finanziaria di Salerno hanno infatti eseguito due ordinanze di custodia cautelare emesse nell'ambito del medesimo procedimento dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia nei confronti di 11 persone, 11 soggetti ritenuti promotori o affiliati o agevolatori di una nuova associazione mafiosa armata, il clan Batti, operante nei comuni di San Giuseppe, Vesuviano e Terzigno e zone limitrofe. Gli 11 soggetti risultano indagati a vario titolo per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di arma da fuoco, estorsione e violenza privata aggravate dal metodo mafioso e dallo scopo di favorire il clan Batti. E ancora vediamo le altre notizie che arrivano da Repubblica. Dal quotidiano la Repubblica Napoli parte il cantiere del Girolamini. Il sito resterà aperto, sarà consegnato già oggi il cantiere di valorizzazione e restauro del compresso del Girolamini a Napoli. Lo si apprende da fonti del MIBAC al termine del sopralluogo che ieri è stato effettuato il compresso Gino Famiglietti, direttore generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni culturali. Famiglietti ha infatti visitato la struttura napoletana prima dell'inizio dei lavori insieme ad Anna Imponente, direttrice del polo museale napoletana. I lavori cominceranno con la consegna del cantiere dal piano basso con accesso da via Duomo e proseguiranno per lotti consentendo quindi alla struttura museale di rimanere aperta per le visite durante il restauro. E insomma si potrà ammirare tutto ciò che avviene e sarà tutto alla luce delle persone, alla luce del sole. Ma vediamo che cosa è accaduto invece in un'altra struttura, in un altro museo, chiamiamolo, definiamolo così, un altro elemento importante della nostra storia, la reggia di Caserta, tre anziani bloccati per un'ora nell'ascensore per disabili. Il contratto di manutenzione è scaduto e non è stato rinnovato, i vigili del fuoco hanno vietato l'uso dell'impianto. Sono rimasti infatti bloccati per quasi un'ora nell'ascensore della reggia di Caserta, riservate ai disabili dalle fasce deboli, è accaduto a due uomini e ad una donna anziani che sono stati liberati dai vigili del fuoco, i quali hanno poi interdetto l'utilizzazione dell'ascensore. I tre hanno visitato il monumento, successivamente hanno soffruito dell'unico ascensore riservato a disabili e anziani, ma in mezzo si è fermato tra il primo piano e il pian terreno. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Caserta che in un primo momento hanno avuto difficoltà a far scendere l'ascensore, sono così intervenuti i tecnici della ditta che effettua la manutenzione, che hanno aiutato i pompieri a liberare i tre, è emerso che il contratto di manutenzione dell'ascensore è scaduto e non è stato rinnovato, così i vigili a quel punto hanno deciso di vietarne appunto l'uso. E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano, si parla ancora di cultura, però questa volta senza intoppi, tre musei con un biglietto, ticket integrato, MAN, Museo Ferroviario di Pietrasa, Musa. E infatti è accesso libero ai tre musei, MAN, Museo Nazionale Ferroviario di Pietrasa e Musa, con un solo biglietto integrato a prezzi particolarmente convenienti. È possibile grazie all'accordo tra Fondazione Ferroviario Stato Italiano e Museo Archeologico Nazionale di Napoli ed il Centro Museale Musei delle Scienze Agrarie, che ha l'obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico del territorio e incentivare gli spostamenti con la linea del mare. Insomma, la cultura sembra essere, anzi lo è, il primo mezzo per liberare la nostra esistenza e allora ecco che ci vengono incontro fornendoci la possibilità con un unico biglietto a un prezzo accessibile di visitare tutte queste strutture e farne magari un buon uso. E vediamo ancora i fatti in primo piano, ci spostiamo sul mattino, andiamo a parlare di Noemi, la bimba ferita a Napoli, vediamo i tre indizi contro il killer, ecco il fermo immagine, lo vediamo bene da quest'immagine, abbiamo già esaminato nella parte del quotidiano cartaceo nazionale un casco nero con un simbolo bianco a forma di L, una maglietta marca half-white con una vestosa croce gialla sulla schiena, le scarpe nere con una particolare zigrinatura, sono alcuni degli indizi che vengono contestati ai due fratelli Armando e Antonio del Re nel corso dell'inchiesta che li tiene in cella grazie al vaglio del Jeep di Siena di Napoli. Indizi che vengono calati in un fascicolo zeppo di immagini, tutte ricavate dalle telecamere in città, frame destinate a rappresentare il fulcro del processo di soffermamento della piccola Noemi. Insomma, questa è una realtà che oggi viene raccontata proprio dalle prime pagine dei quotidiani e soprattutto che racconta di un killer che ha agito a quanto pare a sangue freddo. Ancora vediamo gli altri fatti in primo piano. A Napoli giurano 500 medici e dicono non vogliamo emigrare, lasciateci lavorare qui. Orgoglio, sentimento, cuore per le 1500 persone che al Teatro Agustiano hanno assistito alla cerimonia del giuramento di Ippocrate di 470 medici e 70 odontoiatri freschi di laurea. Da un lato la solennità di una cerimonia che investe di spessore e responsabilità la carriera di tanti giovani dottori. Dall'altro il pensiero rievocato più volte alle condizioni di salute di Noemi, la bambina di 4 anni che lotta per guarire al Santo Bono e dopo essere miracolosamente scampata, un bravissimo ferimento per una pallottola vagante nel RAE di Camorra in piazza nazionale. Ovviamente per la bambina si sta facendo tutto il necessario affinché possa stare bene al più presto possibile. e questo è un applauso che va fatto proprio ai medici che si stanno dedicando con dedizione proprio a questa bimba, ma la stessa dedizione la si deve dedicare sempre e comunque. L'augurio che io faccio a questi nuovi medici è proprio questo, di mettere tutta la loro passione in un lavoro che non dovrebbe essere esclusivamente un lavoro, ma dovrebbe essere una missione. Troppo spesso invece viene considerata ben altro e di conseguenza quel che si fa determina danni nella vita delle persone e non sempre li guarisce. Insomma, noi non possiamo fare più di tanto, ma sicuramente possiamo essere il più umani possibili. Ancora vediamo gli altri fatti in primo piano, vediamo che cosa racconta ancora una volta in mattino dove si parla della paura nel cantiere del racket. Operai controllati a vista, si lavora sotto tensione, infatti il cantiere ieri è stato riaperto, stiamo parlando del cantiere unesco di Porta Capuana, il giorno della rinascita dopo la paura e la fuga per le minacce della camorra, quello nel quale operai e mezzi meccanici arrivano in fila e tornano al posto che occupavano fino a mercoledì passato quando si è deciso di andare via per le minacce. Ora sono controllati a vista e la situazione si presenta proprio così, attenzionata. Ancora vediamo i fatti in primo piano. Infermiere camorrista minaccialo di rapire figli di medico e PM, li vediamo nelle immagini. Infatti sono stati presi, c'è un film con Denzel Washington, dice appunto il mattino, che fotografa un fenomeno drammaticamente diffuso in Messico, quello dei sequestri di persone a scopo estorsivo. Molti rapiti, figli dei ricchi a casa non ci tornano più, benché i familiari paghino centinaia di migliaia di pesos ai malviventi. Emano a fare il contatto tra i parenti e i sequestrati è la voz, la voce appunto, che al telefono detta tempi e modi dello scambio. E il mediatore senza volto non è un componente della banda, ma agisce per suo conto. Nel casertano due uomini e una donna avevano in mente un piano simile, ma hanno commesso una serie di madornali errori. Primo tra tutti quello di far coincidere la voz, ossia il contatto con gli aspiranti e sequestratori, che erano due pregiudicati napoletani, Antonio Fusco di Santa Anastasia, ex dipendente comunale e Ciro Piccolo, 34enne di Pollena Trocchia. Hanno minacciato la vittima, un medico casertano della clinica Villa Fiorita di Capua, per farsi consegnare 10.000 euro, salvo poi dirsi disposti ad accettarne 5.000, se no prendiamo le tue figlie. E bambine spiate per settimane dai presunti estorsori con la complicità di una donna, gli arresti con Fusco e Piccolo, infatti finita anche un'infermiera di Santa Maria. A Sutta Rardiello, in servizio nella stessa clinica dell'anestesista, è stata lei, secondo le indagini della squadra mobile di Caserta, diretta da Davide Corazzini, a fare da basista per gli estorsori, a scegliere la vittima solo sulla base del suo conto in banca e a fornire ai due pregiudicati gli elementi utili per ricattare un medico che è marito di un magistrato del Tribunale di Nola. Insomma, questa è una vicenda che viene raccontata dalle pagine dei quotidiani oggi e rappresenta proprio quanto di più terribile si possa fare agli esseri umani. Ancora vediamo le altre notizie da Caserta News. Incendio a scuola, tre ragazzini incastrati dalle telecamere, gli studenti di 14 anni sono stati denunciati, i danni provocati ammontano a 30.000 euro. Ecco la scuola interessata. E infatti sono stati individuati e denunciati in Stato di Libertà la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, tre responsabili dell'incendio doloso presso la palestra dell'Istituto Comprensivo di Casa Pesena avvenuto proprio lo scorso 11 maggio. Vincenzo, Giuseppe ed Enrico, pur non frequentando quella struttura scolastica, sono stati individuati dai carabinieri di San Cipriano, quali autori dell'incendio doloso appiccato per futili motivi presso la palestra del plesso scolastico di Casa Pesena. I danni alla struttura ammontano a circa 30.000 euro e le indagini condotte dai militari che hanno portato al riconoscimento e denuncia dei responsabili sono stati possibili grazie agli impianti di videosorveglianza posti nella prossimità proprio dell'Istituto Scolastico. E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano sui quotidiani online. Andiamo a vedere cosa altro accade a Caserta e ci spostiamo proprio su Caserta a prima pagina dove vediamo che in primo piano c'è un furto, furto a casa dell'ex campione olimpionico. Ed ecco qua la sua immagine ladri scaterati a Marcianise infatti e stavolta nel minino è finito l'ex campione olimpionico di Pugilato Angelo Musone ed è stato fino a pochi mesi fa anche assessore allo sport della giunta di Antonello Velardi. La banda è entrata in azione tra le 13 e le 15 di domenica quando Musone non era nella sua casa in via Corridone nel rione Medaglie d'Oro. I ladri hanno portato via tutto quello che era nell'abitazione per poi fuggire. Musone è tornato a casa verso le 15 ha fatto la scoperta ed ha poi provveduto a denunciare il fatto. Pare che ad agire sia stata una banda a bordo di una Mercedes di colore scuro, non è stato ancora quantificato il bottino. Intanto le indagini sono in corso e con questa ultima notizia di cronaca terminiamo anche per oggi la rassegna stampa. Ringrazio tutti voi di aver preferito Teleprima e questo appuntamento della mattina. Ringrazio Tecnocampus che come sempre ci offre la possibilità di fare informazione insieme a voi e soprattutto a voi tutti l'augurio di una splendida giornata e come sempre l'appuntamento si rinnova domani stesso posto, stessa ora. Buona giornata a tutti. Grazie a tutti. Questo programma è stato offerto da Tecnocampus Grazie a tutti. Grazie a tutti.